Democrazia è rivoluzione dell'intero progetto moderno di cui la democrazia è come dire una espressione fondamentale, ma tutto il progetto moderno fin dal 500, dal 1500 prometteva la libertà e stiamo precipitando in un dispotismo, in un nuovo dispotismo totalitario, mascherato, il dispotismo di un pensiero unico e micidiale contro il quale non è possibile nemmeno obiettare minimamente, prometteva il pieno sviluppo della persona umana e stiamo precipitando in forme di disumanizzazione, di riduzione dell'essere umano a marionetta algoritmica, prometteva l'educazione civile e morale dei popoli, cioè il progresso e stiamo precipitando in una volgarità senza limiti e una ingiustizia senza limiti. Perché dobbiamo continuare ad ascoltare questa gente che fa finta di non sapere niente per dominare gli umani, per continuare a schiacciarci, a intristirci, a colpevolizzarci? Politici, giornalisti che mentite dalla mattina alla sera convertitevi, convertiamoci insieme, divertiamoci, inauguriamo una nuova umanità invece di continuare a tradire l'umanità e a calpestarla. Allora, o noi rinunciamo al progetto democratico e noi siamo una massa da nazioni che va semplicemente comandata da un'oligarchia sempre più ferrea, magari sotto fembianze democratiche ma sempre più vuote e questa è una scelta che stanno prendendo. Oppure dobbiamo dire no, il progetto democratico aveva ragione, quelli ideali lì li vogliamo portare avanti, ma dobbiamo farlo con una consapevolezza del ventunesimo secolo, rilanciare il progetto democratico come un progetto rivoluzionario, democrazia è rivoluzione, che implichi costantemente il rivolgimento interiore delle persone, il lavoro interiore delle persone, lavoro condiviso, lavoro sociale, lavoro che deve diventare un'educazione comune, formazione anche politica comune, una consapevolezza nuova, una cultura nuova, una comunicazione di massa nuova, che queste cose le faccia conoscere allegramente, ci vuole una rivoluzione interiore permanente che alimenti una rivoluzione democratica permanente, capite la nuova età? Questa è la nuova età, questa è la nuova umanità. Grazie. 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 Eccoci a Napoli. Quinta stazione del nostro viaggio in Italia. Eccoci a sud. Avevate voluto, avevate richiesto una presenza nel meridione, giustamente, eccoci qua Grazie Napoli, grazie Caserta, Salerno, Avellino, Benevento Terra di mia madre Grazie Calabresi, quanti calabresi ci sono? Alzatevi i calabresi se ci sono Calabresi, no, terra di mio padre Gugliesi, ci sono Gugliesi, Gugliesi nascenti, in piedi, alzatevi Gugliesi, Gugliesi nascenti, viventi, Lucani, c'è qualche Lucano, eh? Abitante della Basilicata, eccola qua, ce l'abbiamo Campani, siciliani, 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 benvenuti, benvenuti tutti a questa quinta stazione del nostro viaggio Democrazia è rivoluzione Questo è un annuncio In questa prima fase che stiamo portando in tutta Italia Noi ci limitiamo, come capite, a lanciare un annuncio Poi ci sarà il tempo Di riflettere più a fondo Di affrontare tematiche, problematiche che sappiamo benissimo quanto siano complesse Ma questo Abbiamo voluto che fosse Come una festa In un momento così buio In un momento così cupo Dominato da un regime Cosiddetto democratico Che ogni giorno di più si manifesta Nella sua natura Totalitaria Militaresca Brutale Abbiamo sentito il bisogno di parlare un'altra lingua Ripigliamoci il respiro Ragazzi Prima di tutto Liberiamoci da questa gabbia asfissiante Nella quale vorrebbero che noi vivessimo O meglio morissimo Dimostriamo Come oggi Ancora oggi Che ci sono milioni di italiani Che non sono disposti A farsi ingannare Da queste commedie Che diventano veramente oscene Queste feste della Repubblica Ucraina Che abbiamo festeggiato ieri Celebrando una Costituzione Che viene calpestata Dalla mattina alla sera Nei suoi fondamentali Un'Italia che ripudia la guerra E che addestra ad andare in guerra Che addirittura Vuole investire i soldi Che dovrebbero essere appunto impiegati Per gli ospedali E per gli asili Per le munizioni Da dare a un popolo Che sta massacrato Che viene massacrato Per ragioni oscure In realtà Senza nessun intervento Di reale volontà di pace Da parte dell'Italia E dell'Europa C'è un popolo italiano Che questo lo sa E che non ha rappresentanza politica I dati ci dicono Che il 49% degli italiani È contrario A continuare a inviare armi In questo senso Ma non si vede Non si sente No? Non abbiamo più rappresentanza politica E allora Intanto Concediamoci il piacere Di annunciare Davanti al mondo E tra di noi Che noi siamo Una nuova umanità Siamo ai confini Di una nuova età Sappiamo benissimo Che sarà un lungo cammino Che non è una cosa così Noi non siamo improvvisatori Procediamo lenti Graduali Con un realismo profondo Insieme ad una grande visionarietà Però questo cammino Va iniziato Ecco perché abbiamo dato avvio Ad un'avventura Un po' folle Una carta Della nuova umanità Nella quale potersi Riscontrare Sulla quale potere concordare Gente che viene da Tante tradizioni Politiche Culturali Spirituali Ma che ha come dire Alcuni punti in comune Che ormai sono fondamentali Vitali E questo noi lo facciamo ragazzi Come un movimento Perché noi siamo un movimento Darsi pace L'indispensabile Siamo un movimento Che esiste da 23 anni Siamo gruppi Di persone reali Fisiche Che si conoscono Che fanno un lavoro insieme Da decenni E questa è la nostra forza Che ci consente Di andare in tutta Italia E di trovare in tutta Italia Una rete Umana Già pronta Quindi questa Per noi È anche la prima Assemblea Interregionale Del sud Italia Per quanto riguarda Il nostro movimento E quindi Vi presento Diciamo I protagonisti Di questa nostra serata A partire da Gabriele Broglia Gabriele Broglia Gabriele Broglia Come ormai Qualcuno di voi Sa È un maestro Di arti marziali In particolare Cinesi Quindi il Tai Chi Il Qi Kong È un nostro praticante Ormai Da Quanti anni? Sette Da sette anni Quindi è un praticante Diciamo avanzato E oggi Come ogni volta Ci aiuterà Nella lettura Della carta Perché la lettura Della carta Non è una cosa Come dire Indifferente Leggere i testi Importanti È qualche cosa Di importante Quindi grazie Gabriele Prego Accomodati E poi Giorgia Cecconi Giorgia Cecconi Musicista Pianista Di livello Internazionale E che Come avete già sentito E come sentirete Ci accompagnerà Ma lei è anche Una praticante Anche lei Da Sette anni Da sette anni Quindi Noi siamo appunto Una rete di persone Che si Conoscono Questo ragazzi È fondamentale Per un qualunque Nuovo movimento Culturale O politico Che non voglia Fare la fine Di quelli Che abbiamo visto Negli ultimi anni Cioè Fuochi di paglia O peggio Dovrà essere Fondato Su relazioni Solide Su una umanità Provata Che non cade Capisci Alla prima Esca del potere Che gli dai Lecca lecca E quelli subito Diventano Cagnolini Che scodinzolano E che poi Hanno anche I posti in Europa Vergogna Vergogna Ok No Basta Se ci dobbiamo muovere Ci dobbiamo muovere Un passo dopo l'altro Ponderatamente Allegramente E seriamente E questo si può fare Solo con persone Che conosciamo da anni Almeno per quanto mi riguarda Io sono di origini Calabrese Campane Quindi non è che sono proprio uno Che mi convinci facilmente Giusto? Ok Prego Accomodatevi Bene Aurelio Diano Eccolo qua Eh C'ha la clac C'ha la clac Aurelio Perché Aurelio È un formatore Del nostro movimento Ormai da molti anni Ma è principalmente Il responsabile regionale Della Campania Della Calabria Della Lucania Della Basilicata E della Puglia Ok Da quanti anni Lavori con noi? 2010 Cioè quanti sono? 13 13 anni Ecco Ci possiamo fidare? Ci possiamo incominciare a fidare? Incominciamo a fidarci di Aurelio Prego Così No? Eh Ok Poi Gabriele Guzzi Persona che conosco questa sera per la prima volta Gabriele Guzzi Diciamo Rappresentante di quel mistico tecnico Voi sapete che noi parliamo di mistici tecnici Cioè La nuova umanità Dovrà diventare Ognuno di noi Un mistico tecnico Quindi una persona Che ha un forte radicalmento Mistico Ma che poi È anche un tecnico Quindi sa portare Questa ispirazione In un linguaggio tecnico Che sia l'economia La politica L'urbanistica La sanità Qualunque ambito Ha bisogno Di rigenerazione Quindi Gabriele È un mistico tecnico Poeta economista O economista poeta? Economista mistico Mistico Economista mistico Ed è anche il presidente Dell'indispensabile Cioè del movimento rivoluzionario Giovanile Che collabora a questo evento Prego Gabriele Accomodati Francesco Marabotti Ecco Presente Su queste scene Anche lui Camminiamo Francesco camminiamo Per i patetici Aristotelici Camminiamo Francesco è un filosofo Quindi Aristotelico Quindi camminiamo Con lui siamo filosofi Il senso della vita Il senso della vita Non c'è Ah no te lo devi creare Ha detto quello lì Te lo devi creare Vabbè Comunque Francesco è anche lui Un mistico tecnico Quindi filosofo Ma militante Anche lui è un formatore Ormai formato Dei gruppi Darsi pace Con i quali collabora Da Dieci anni Da dieci anni Era bambino Proprio Scappava Noi lo inseguivamo E poi è diventato Vedi come è diventato Bello Bravo Ecco Ha spubblicato anche un libro Nella collana Crocevia Ed è anche Responsabile Regionale Del Piemonte Quindi c'è un sacco Di responsabilità Prego Accomodati Antonio Marino Antonio Marino Eccolo qua Anche lui Formatore Formato Dei gruppi Darsi pace Anche lui Mistico tecnico Diciamo Ma lui è Un grande dirigente Di banca Quindi uno dice Che cacchio Ce fa Darsi pace E qui E questo Stiamo cercando Di capirlo tutti Specialmente lui Noi che crediamo Nella fecondazione O fecondabilità Di ogni territorio Umano Tutti i territori Umani Aspettano Redenzione Rigenerazione Quindi non c'è niente Di umano Che va scartato E quindi siamo contenti Che anche un grande Dirigente nazionale Di banca Sia anche Un formatore Di darsi pace E il responsabile Regionale Della Sicilia Allora Cari ragazzi Poche parole Per Avviare Questa Nuova Lettura Della carta Ogni lettura Che noi facciamo In giro Per l'Italia È un evento Nuovo Non c'è Alcuna ripetizione Come dire Meccanica Noi non ripetiamo In senso Meccanico Noi ripetiamo In senso Filosofico Cioè Chiediamo Di nuovo Ripetere Vuol dire Chiedere Di nuovo Noi Continuiamo A chiedere Cioè Continuiamo A pensare Allora Cari amici Noi siamo Costretti Per certi aspetti A dire Democrazia È rivoluzione Siamo costretti A inaugurare Una nuova età Siamo costretti Perché La vecchia età No New age No Questa è la Old age La old age È veramente finita Ed è finita Come sappiamo Molto male Sta finendo male Sta finendo molto male In questa specie Di deserto Spirituale Asfissiante Dove Stiamo Appunto Soffocando Tra Burocrati Pagliacci E collaborazionisti Del sistema Della morte Cioè Persone Che più o meno Consapevolmente Se sono inconsapevoli Mi dispiace Per loro Se sono consapevoli Non mi dispiace Più di tanto Tutti Sono comunque Qui convocati Noi non escludiamo Nessuno Cioè Tanti funzionari Della morte Che fanno Una vita Così Tanto solo Per guadagnare Denaro Per guadagnare Un potere Sempre più insignificante Ma venissero qua Collaborassero con noi Iniziassero a occuparsi Della loro vita Invece di tradirla Alla ricerca Di un potere vano Che gli si ridurrà In cenere Tra le mani Questo è sicuro Quindi noi non escludiamo Nessuno Convochiamo tutti Benvengano Benvengano Siamo un'umanità In conversione Convertiamoci tutti Politici Giornalisti Che mentite Dalla mattina Alla sera Convertitevi Convertiamoci insieme Divertiamoci Inauguriamo Una nuova umanità Invece di continuare A tradire l'umanità E a calpestarla E' un'intera epoca Del sogno democratico Che sta finendo E' una nuova E' una vecchia umanità Ma è anche Come dire E' un intero sogno Democratico Che si sta esaurendo In forme Che contraddicono Ogni giorno di più Tutte le speranze Che avevano Alimentato Quel sogno Il sogno democratico E' un sogno Pieno di speranze Le più grandi democrazie Ormai sono finite Sotto il dominio Di pochissimi Centri di potere Lo sappiamo tutti Sono ormai Oligarchie Altro che Governo Dei popoli Le democrazie occidentali Sono ormai Il paravento Sempre direi Meno Efficace Cioè questo paravento Poi Manco funziona Perché ormai Lo vediamo tutti Lo sappiamo tutti Che maschera La tirannia Di alcuni Miliardari Più o meno Deliranti Che ci fanno Vedere No? Pronti ad essere Celebrati Nelle prime pagine Del Corriere della Sera Appena fanno Qualche altra Pazzia Appena mettono In opera Qualche altro Delirio I microchip Nel cervello Degli umani I viaggi Turistici Su Marte Poi ci parlano Del problema Ecologico Della difesa Dell'ambiente Insomma È una pazzia Totale È ovvio No? Quindi le democrazie Occidentali Mascherano ormai Male Mascherano male Le manovre Speculative Dei grandi fondi Di investimento Mentre Miriadi Miriadi Di scagnozzi Più o meno Cocainomani Fanno il lavoro Sporco Contro di noi Ricatti Omicidi Stragi Propaganda Indecente O guerre Alla bisogna E tutto questo Viene fatto Sostenendo Di difendere Appunto I valori Della democrazia Quindi come dire Cornuti e mazziati No? Ma come dice Annaboli Cornuti e mazziati Ci prendono in giro Senza pudore Era veramente Qualche cosa di comico Ieri Assistere a quella parata D'altri tempi Non so in che epoca è stata fatta Nell'ottocento No? Con questa retorica Risorgimentale Patetica Patetica Fuori tempo Fuori luogo Irreale Che a me Mi faceva Venire Noia Quando la faceva Carducci Pensate voi Già Già alle persone Più sensibili Appariva Superata No? Pensa Ungaretti Cioè Ungaretti No? Già negli anni Dieci del Novecento Già aveva Smontato Tutta questa retorica Nei massacri Della Prima Guerra Mondiale E qui ancora Celebriamo Ancora celebriamo I massacri Invece di essere Contriti Della morte Di tutti quei giovani No? Questo ne parleremo Ma questo Dovrebbe accadere No? Quindi le democrazie Più antiche Oltretutto Precipitano Nella corruzione Che è prima di tutto Mentale Cioè Un uomo Una donna È corrotto O corrotta Non solo Quando prende Direttamente La mazzetta Da qualcuno Ma è corrotto Cioè Rotto Co Rotto È rotto Nel momento In cui Ha già rinunciato Alla propria verità Alla propria integrità Ha rinunciato In partenza A fare una vita decente A fare una vita Che corrisponda Alla propria Ricerca di verità Di integrità Di bellezza E si è venduto Già lì È corrotto Poi dopo Che ce l'ho A corromperlo Con qualche Lecca lecca Con qualche Eh che ce l'ho Eh Qualche posto Ben pagato Insignificante Ma ben pagato Che ce l'ho Quello è già Corrotto Ecco perché Noi dobbiamo Innanzitutto Lavorare Alla nostra Integrità E se un giorno Dovremmo arrivare A concorrere Anche Al governo Di un paese Non io Ma insomma Noi Dovremmo Arrivarci Con un ceto Direttivo Abbastanza Verificato Su questo punto Che abbia Almeno Per alcuni anni Lavorato Alla propria integrità Che abbia Verificato Il proprio Anelito Alla verità Come centro Dell'esistenza Intorno al quale Poi ruota Tutto il resto Il lavoro Tutto quanto Le vediamo Sfiorire Queste democrazie Le vediamo Appassire Nei battibecchi Quotidiani Cui ci tocca Assistere Allestiti Dai partiti Cosiddetti Di destra E di sinistra Che allestiscono Proprio Questi battibecchi Per farci ancora Credere Che esista Un'alternanza Che esista Una dialettica Democratica Ed è una pantomima Totale Ormai l'abbiamo capito Ma tutto Il sistema Mediatico È allestito In modo che Tu veda La trasmissione E loro Ti fanno Convincere Che ci sta La sinistra La destra Oh 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 Eh Il giornalista Coccocco E il giornalista Chicchilichi Gallinacci Comunque E abbiamo capito Che sono Semplicemente Comparse Di un gioco Che è sempre Lo stesso Che può andare Poi al governo La sinistra La destra Il centro Draghi Ameloni Salvini La Hushline O chi Te pare Quello che poi Devono fare È sempre La stessa cosa Ed è Spaventoso Ormai No La velocità Del tradimento È spaventosa È indiretta No Parlano E mentono Parlano E già T'hanno tradito Ma come La Meloni L'avevamo sentita Pochi mesi fa Quello che diceva Sull'Europa Ma ve lo ricordate Io me lo ricordo Ormai è tutto cancellato Poi non è che I giornalisti Stanno là A dire Ma scusa No Anzi Eh no La Meloni È affidabile Eh no Cioè Che vuol dire Fa quello Che gli dicono De fa Questo vuol dire No E allora A che serve votare A che serve votare Se io voto questo O voto quello È uguale Non cambia niente L'agenda è la stessa La politica fondamentale La politica economica La politica internazionale È la stessa Che andiamo a votare E infatti Metà del popolo italiano Non ci va più Ma anche di questo Non significa niente Sì Dicono Beh certo Il calo dell'affluenza È un problema Che ci coinvolge tutti Finito Dopodiché È come se non esistesse Nessuno si interroga Nessuno si fa una domanda Nessuno Diciamo Mette questa questione Al centro Di una rigenerazione Democratica Ponendo delle domande Perché è così Perché è così Perché il popolo italiano Va più a volare Noi lo stiamo dicendo Perché Ma questo non viene mai spiegato Questi intellettuali Al soldo Delle case editrici Dei giornali E delle televisioni Che si indignano Per qualunque cosa Non sembra Che poi si indignino Per le cose serie Perché quelle Se ti indigni Diciamo Non piaci Al re E al cardinale Come cantava Iannacci Non piaci Ai potenti Siamo dunque Alla fine Siamo Diciamo Arrivati alla catastrofe Catastrofe Che noi riteniamo Evolutiva Ma certamente Catastrofe Dell'intero progetto Moderno Dell'intero progetto Moderno Di cui la democrazia È come dire Una espressione fondamentale Ma tutto il progetto moderno Fin dal cinquecento Dal mille cinquecento Prometteva la libertà La ricerca della libertà Una maggiore libertà E stiamo precipitando In un dispotismo In un nuovo Dispotismo totalitario Mascherato Il dispotismo Di un pensiero unico E micidiale Contro il quale Non è possibile Nemmeno obiettare Minimamente Prometteva il pieno sviluppo Della persona umana E stiamo Precipitando In forme Di disumanizzazione Di riduzione Dell'essere umano A marionetta Algoritmica Vedete le pubblicità Come vengono rappresentati Adesso gli umani Una corrente elettrica Che li attraversa E si muovono così No E quello è il modello Un robot Una marionetta Nelle loro mani Quell'energia È quello che te dicono loro È il flusso di informazioni Che ti attraversa E diventi tu Quello è il modello Prometteva l'educazione civile E morale Dei popoli Cioè il progresso E stiamo precipitando In una volgarità Senza limiti Una volgarità E una ingiustizia Senza limiti Consumismo più bieco Propagandato nei modi Più indecenti Da conduttori Conduttrici Televisivi Comparse varie Comparse di un avanspettacolo Da quattro soldi Non si può più vedere Non si può più vedere Io veramente Ormai non riesco più A stare un minuto Su un programma Devo subito cambiare Ma Come mai siamo arrivati a questo Ragazzi Io oggi Lascerò solo una pallina Su questa domanda Però la devo porre Come mai siamo arrivati a questo Cioè perché Perché Il progetto moderno La modernità Di cui la democrazia È come dire Una parte sostanziale Arriva qui Arriva a questo Che abbiamo descritto A questo fallimento Così eclatante Perché Anche questa domanda Non viene mai posta No? Non viene mai posta Nemmeno in superficie Nemmeno a livello superficiale Ci si chiede No? Come mai I progetti Che ne so Socialdemocratici Socialisti Del novecento Sono arrivati A questo livello Di collaborazionismo Oligarchico Contraddicendo se stessi Perché? Beh Io ripeto Su questo abbiamo riflettuto Molti decenni Ma possiamo dire una cosa semplice stasera Il progetto democratico moderno Pretendeva L'impossibile Questo è il motivo per cui Adesso Questa pretesa Impossibile Sta manifestando La propria natura Di pretesa impossibile Che cosa pretendeva Il progetto democratico? Il progetto democratico Liberal democratico Pretendeva Semplicemente Che il cittadino Sostanzialmente Fosse Un santo Questo pretendeva E poi vi faccio due citazioni Così vi ricordate Che quello che dico Non è un mio Progetto fantastico Allora andiamo alle origini 1794 Condorcet Siamo proprio come dire Agli albori Condorcet dice Si tratta Di rendere Qualità quasi universali Un giudizio retto Udite bene Qualità universali Un giudizio retto Una ragione sana E indipendente E' notorio Che tutti gli umani Posseggono queste qualità Ovunque E già nel 1794 Come poi abbiamo visto Nei 200 anni successivi Abbiamo tutti dimostrato Di avere universalmente Queste qualità Che Condorcet Dava Come per scontate Una coscienza Illuminata E una sottomissione Abituale Alle regole Di umanità E di giustizia Questo era il progetto Democratico Originario Facciamo un salto Di 100 anni in avanti E torniamo qua In Italia Il nostro Francesco De Santis Grande italianista Risorgimentale Nel 1877 Quindi siamo quasi Un secolo dopo Dice L'ideale moderno Della libertà E della inviolabilità Della persona umana Ok Ideale moderno Che c'è anche Nella Costituzione italiana Non è altro Che la trasposizione In veste filosofica Dell'ideale cristiano La trasposizione In questa vita terrena Della purificazione E santificazione Dell'uomo Quindi I risorgimentali italiani Quelli più illuminati Dicevano Lo Stato democratico Liberale Presuppone E diciamo Pretende L'illuminazione La purificazione E la santificazione Di ognuno di noi Uno dei grandi Costituzionalisti Contemporanei Zagrebelsky Nel suo famoso libro Sulla democrazia Dice La democrazia È forma di vita Di esseri umani Solidali Ok La virtù repubblicana Di Montesquieu La virtù repubblicana È questa Amore per la cosa pubblica E disponibilità A mettere in comune Qualcosa Anzi Il meglio di sé Il tempo Capacità Risorse materiali Ok Ma questo è reale? Cioè Il cittadino Di una repubblica Liberale Democratica Ha queste qualità? Basta Un po' di istruzione Un po' di scuola E un po' di elettricità Per diventare così? Ecco La risposta Ce l'ha data la storia No No Amici Sveia Voi avete dimenticato All'origine del progetto Democratico Come è fatta La natura umana Avete dimenticato Come siamo fatti noi Noi umani Non siamo così belli I miei Magari Ma non siamo così L'essere umano È un'entità Molto contraddittoria Abissale Ferita Scissa Vorrebbe una cosa E fa l'esatto opposto Non vogliamo tutti la pace E facciamo ininterrottamente La guerra No? Non vogliamo tutti l'amore Non siete tutti per l'amore? Sì dai Tutti siete per l'amore Volete tutti l'amore Vero? Tutti vogliamo l'amore È vero? È vero o no? È vero o no? Che volete tutti l'amore? 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 E vai dovrete portare il cuore? E dove va il cuore? Boom! Vai va! Non vogliamo tutti l'amore? Però di fatto Ci scanniamo Dalla mattina alla sera O no? Tra fratelli Sorelle Non parliamo coniugi Ok? Come mai? Come mai? Condorsi E come mai? Ci vogliamo porre questo problema? È venuto il tempo Di farci qualche domanda più seria? Ecco Io credo che noi siamo proprio In un punto nuovo In un punto nuovo In un bivio In cui dobbiamo decidere O Ci diciamo francamente Condorsi De Santis Monteschi E Porelli No? Porelli No? Porelli nel senso Con tutto il rispetto All'epoca forse Potevano anche pensare a questo Non dico di no Però Ve sbagliate E abbiamo visto i risultati Perché se tu Non prendi in considerazione L'umano Nella sua globalità E pretendi Capisci? Con la razionalità Scientifica Di avere un popolo Così Santificato Finirai per massacrarlo Questo popolo Perché non corrisponderà Alle tue aspettative E farai la fine Di Robespierre Che pensava esattamente questo Siccome però Se guardava intorno E non trovava Questa virtù repubblicana Giustamente dice Beh Lui mi sa che la virtù repubblicana Non ce l'ha al 100% Allora sai che facciamo? Gli tagliamo la testa Uno di meno Tu? No Virtù repubblicana Non mi pare Tagliamo la testa Lui? No Ecco Questo è accaduto Non prendere in considerazione L'umano Con misericordia realistica Porta Alla violenza Come sta accadendo Loro vogliamo fare questo In fondo L'oligarchia Quindi Toglietevi dalla testa Proprio la democrazia Oppure Continuate a parlarne così Come a Carnevale La democrazia è bella I valori della repubblica Ecco Il presidente della repubblica Passa in rassegna Alle forze armate Le frecce tricolori Passano per il cielo E domani ci diranno Che dobbiamo andare in guerra Con la stessa retorica State attenti Perché questi sono bravi Bravi insomma Allora O noi rinunciamo Al progetto democratico Ci diciamo Non siamo idonei Smettiamo di parlare O parliamo solo in forma retorica Di libertà Di giustizia Perché non esistono E noi siamo Una massa Dannazionis Che va semplicemente Comandata Da un'oligarchia Sempre più ferrea Magari sotto Fembianze democratiche Ma sempre più vuote E questa è una scelta Che stanno prendendo Oppure Dobbiamo dire No Il progetto democratico Aveva ragione Quegli ideali lì Li vogliamo portare avanti Ma dobbiamo farlo Con una consapevolezza Del ventunesimo secolo Cioè Dobbiamo sapere Che Per andare in quella direzione Ci dobbiamo prendere cura Di lui Di lei Di me Uno alla volta Dobbiamo sapere Che lui E io Abbiamo Un cuore diviso Un cuore ferito Non basta L'educazione civica Ci vuole una formazione umana Permanente Ci vuole una rivoluzione Interiore permanente Che alimenti Di una rivoluzione democratica Permanente Capite la nuova età Questa è la nuova età Questa è la nuova età Questa è la nuova umanità La nuova umanità Siamo noi Che Prendiamo coscienza Di cose ovvie Di quello che sappiamo tutti Di quello che anche Cento anni Di ricerche scientifiche Artistiche Psicologiche Ci hanno insegnato Il cuore diviso L'io diviso Lo sappiamo Perché dobbiamo continuare Ad ascoltare Questa gente Che fa finta Di non sapere niente Per dominare gli umani Per continuare A schiacciarci A intristirci A colpevolizzarci Subito pronti Subito pronti No? Prima a pretendere L'impossibile E poi ad accusarti Che non lo adempi E siccome tutti noi Cari ragazzi Purtroppo Siamo affetti Da un profondissimo Senso di colpa Ci vuole poco A colpevolizzarci Capite? Quindi Cari ragazzi Questa A nostro parere È la nuova età Rilanciare Il progetto democratico Come un progetto Rivoluzionario Democrazia È rivoluzione Che implichi Costantemente Il rivolgimento Interiore Delle persone Il lavoro Interiore Delle persone Lavoro condiviso Lavoro sociale Capite? Lavoro che deve diventare Un'educazione comune La liberazione Come Formazione comune Formazione anche Politica comune Una consapevolezza nuova Una cultura nuova Una comunicazione Di massa nuova Che queste cose Le faccia conoscere Allegramente Invece di farci vedere Queste tristissime scene Capite? Ecco Noi siamo qua Per Inaugurare Qualcosa di nuovo E ora Insieme a voi Leggeremo Ancora una volta La carta della nuova Umanità E la commenteremo Con voi Applausi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Inauguriamo Un nuovo Grande ciclo Della storia Lo facciamo Consapevoli Di tutte Le difficoltà Qui andiamo incontro Ma anche Della forza Straordinaria Che ci anima E della spinta Ineluttabile Che sta Conducendo Il vecchio ciclo A finire Il sistema Della guerra E agli sgoccioli Sopravvive Solo Intensificando Le strutture Della violenza Del controllo E della menzogna E tempo Di mobilitarci Di aggregarci Di crescere Insieme Oggi La classe Degli sfruttati È molto vasta Siamo tutti Noi in realtà E tutti Noi Siamo perciò Chiamati A dare vita Ad un grande Rinnovamento Che tutti Noi però Possiamo anche Rifiutare Applausi Allora Buonasera A tutti Nel commentare Questa Prima parte Della Carta Della nuova Umanità Vorrei partire Da un fatto Accaduto Recentemente Al salone Del libro Di Torino Durante La presentazione Di un libro Da parte Della Ministra Roccella Ovviamente Io racconto In maniera Superficiale Perché non voglio Scendere Nei particolari Di chi Avesse Torto Ragione Ma Mi hanno Colpito Molto Le modalità Con cui Questo Evento Accaduto Quindi Durante La presentazione Parte dal Pubblico Una contestazione Molto forte Era un gruppo Di attivisti Contro Appunto La Ministra E Affermavano Che siamo In un paese Democratico E abbiamo Il diritto Di manifestare Purché La manifestazione Sia non Violenta Dall'altra parte Però accadeva Che la Ministra Provava A contestare Queste Provocazioni Ma non Le veniva Dato il permesso Non ci Riusciva E Quindi Anche lei Diceva Siamo In un paese Democratico Ho il diritto Di parola Il diritto Di manifestare Il mio pensiero E il tutto Si è concluso In un grande Conflitto In cui è stato Coinvolto Anche il moderatore Perché non è stato In grado Di mediare Tra le due Fazioni Quindi Appunto Come dicevo La cosa Che mi ha Colpito Maggiormente È la modalità Con cui È avvenuto Tutto Con questo carattere Molto aggressivo Da parte Di entrambe Le fazioni Al di là Del torto Della ragione Erano entrambe Aggressive E invocavano Entrambe I diritti Democratici Propri Della democrazia Appunto Ma invece Di arrivare Ad un punto D'incontro Questi diritti Hanno portato In asprimento Del continuo Del continuo Conflitto È questo Che a me Ha lasciato Molto Perplessa Cioè Mi ha fatto Riflettere Sull'indice Della menzogna Propria Di questa democrazia Invochiamo I diritti Ma non portano A nulla Di risolutivo E capiamo Bene Che questa Modalità Appartiene A tutti Noi Come diceva Marco Nella nostra vita Quotidiana Intima Personale Nelle relazioni Sociali Per non parlare A livello globale Un continuo Conflitto Ed è Proprio Questo sistema Bellico Che è alla base Della nostra Attuale società Che tuttavia Come dice la carta È agli sgoccioli Perché ormai È evidente Non possiamo più Far finta Che non esiste Cioè Sotto i nostri occhi Ne abbiamo fatto Esperienza In questi ultimi anni Con provvedimenti E leggi Antidemocratiche Se qualcuno Provava a essere Contrario Al sistema Mediatico Dominante Oscurato Veniva Oscurato Non gli veniva Permesso Di parlare La classe Sfruttati È ampia Siamo tutti noi Appunto Noi non siamo Esclusi Da questo ciclo Ci siamo Dentro Tutti Tutti noi Non c'è Chi è più fortunato E chi è meno fortunato Tutti Lo viviamo tutti Viviamo tutti Questo sistema Di controllo Fondato sulla paura Fondamentalmente Perché la paura Secondo me È un'emozione Molto forte Secondo me È un'emozione Molto forte Che ci porta Alla paralisi Cioè Ci blocchiamo Completamente Non siamo più lucidi Non siamo più in grado Di pensare Con la nostra testa Non ci riusciamo più E dove siamo Giunti ora Siamo giunti Ad una separazione Veramente Netta Una netta Separazione Che Possiamo Suddividere Nel livello Individuale E collettivo Come accennavo prima Ma sono ovviamente Entrambe Comunicanti Questi due livelli Comunicano Tra di loro A livello Individuale Ci siamo rinchiusi In un egocentrismo Radicale Che difendiamo Però Questo egocentrismo Lo difendiamo Ponendoci tutti I confini Invalicabili Tant'è che Il sociologo Bauman Definisce La nostra società Modernità Liquida E qui Vi cito Umberto Eco Che secondo me Spiega molto bene Questo concetto E afferma Che è una modernità Fondata su Un individualismo Sfrenato Dove nessuno È più compagno Di strada Ma antagonista Di ciascuno Da cui Guardarsi Molto interessante Questo Un dato molto interessante E quindi A livello collettivo Che cosa succede? Questa crisi Interiore dell'uomo La riportiamo Appunto Nelle nostre Relazioni sociali E ci porta Allo sgredolamento Del popolo Ma non è la democrazia Il governo del popolo È un popolo Diviso Che potere può avere? È normale Che viene facilmente Controllato Da un sistema Oligarchico È facilmente Controllato Siamo malleabili Diciamo Siamo In questo sistema Della menzogna Per cui Ci dicono Ha il diritto Di fare questo Però se lo fai Ti prendi le tue Conseguenze E appunto Non Non viviamo In questo governo Non viviamo In questo governo Che ci aiuta In teoria Ci dovrebbe aiutare Ad essere più uniti Invece no Alimenta Alimenta costantemente Questo conflitto Quindi C'è Bisogno Come Suggerisce La carta Di un grande Rinnovamento Una nuova forma Di aggregazione Inaudita Fondata Sulla bellezza Fondata Sull'unione Su azioni poetiche Come questo evento Questo evento È una grande azione Poetica E culturale Perché queste caratteristiche In realtà Sono proprie Dell'essere umano La vera natura Dell'essere umano Scavando ben a fondo E si può fare È Questo spirito critico Assolutamente Non violento Ma aperto Che accoglie È uno spirito Accogliente Perciò dobbiamo Continuare Questo grande lavoro Insieme In maniera Nuova Grazie 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 Grazie